Le emergenze ereditate dalla precedente legislatura rischiano di degenerare in modo incontrollabile. Si apre così il documento dei segretari regionali di CGL Cisle Will per chiedere un incontro urgente con il presidente della regione Nello Musumeci. Una collaborazione definita imprescindibile dai sindacati, in particolare le organizzazioni dei lavoratori, chiedono interventi per i giovani, per una maggiore attenzione ai dipendenti dell'ex provincia, per stabilizzare i precari degli enti locali e ancora chiedono una più attenta spesa dei fondi europei. Tutte tematiche in parte affrontate anche nell'incontro di ieri del presidente della regione con i nove prefetti dell'isola, con i quali Musumeci ha annunciato di voler tornare a incontrarsi per affrontare problemi specifici nelle varie province. Ma i sindacati rilanciano anche sulla vicenda dei rifiuti una delle prime emergenze che il governo regionale si trova ad affrontare. Giovedì la questione arriverà anche a Roma. Per quel giorno, infatti, è previsto un incontro con il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni. In base ad alcune anticipazioni riportate dal quotidiano La Repubblica, Musumeci intende chiedere un'ordinanza di protezione civile urgente con obiettivi mirati e specifici. Ad esempio, nel caso di Bellolampo, che tra poco rischia di essere piena, Musumeci chiederà di poter autorizzare in tempi brevi abbancamenti nella Sestavasca e avviare lavori per la Settima con i soldi del Patto per la Sicilia, che andrebbe dunque almeno in parte riscritto. Prevista per la riapertura della discarica di Enna e l'ampliamento di quelle di Trapani e Siculiana, tutte vicende che verranno affrontate giovedì a Roma e che potrebbero essere ereditate anche dal nuovo assessore ai rifiuti al momento solo designato, il supertecnico Alberto Piero Bon, che però ha chiesto due settimane di tempo prima di accettare l'incarico. Grazie a tutti.